Eccoci al nostro appuntamento con TBD Agenda, vediamo due iniziative per la giornata di sabato 28 aprile. Parliamo di sociale perché sabato 28 aprile alle ore 15 alla sala San Felice di Tricchiana si terrà l'Inter Club dal titolo Il Club aperto anche ad altre problematiche che viene proposto dall'Associazione dei Club Alcologici Territoriali e del Club Alcologico La Fenice di Tricchiana con il patrocinio del Comune di Tricchiana per festeggiare i 30 anni di attività nel territorio. A tal proposito appunto viene organizzato questo Inter Club provinciale dei Club Alcologici Territoriali che si svolgerà proprio alla sala San Felice di Tricchiana. Ora i Club sono preparati ad accogliere anche famiglie oltre che con problemi di alcol anche con altre fragilità come possono essere per esempio il gioco d'azzardo, il fumo, il tabaggismo, la tossicodipendenza e quant'altro. Quindi l'appuntamento è rivolto a tutti per conoscere ancora da più vicino questa preziosa realtà del nostro territorio. E cambiamo argomento dal sociale, passiamo invece ad un'altra attività, questa volta di carattere culturale perché avrà luogo sabato 28 aprile alle 17 e 15 la ultima iniziativa, lo spettacolo di chiusura della 22esima edizione di Fanta Librando. La manifestazione che viene organizzata a Limana e che avrà in questo caso come oggetto lo spettacolo tutto iniziò con un tremendo botto. Lo spettacolo si terrà come di consueto alla biblioteca comunale di Limana ed è rivolto alle famiglie grandi e piccini. E noi abbiamo concluso così anche l'edizione odierna di Tibi di Agenda. Arrivederci a domani.